E sulle note finali di Laira Rara ragazzi andiamo a chiudere un'altra scoppiettante puntata di Lean Generation Quindi io vorrei rinnovare l'appuntamento con la trasmissione a lunedì prossimo Ricordando che Lean Generation va in onda in quali giorni Matteo? Va in onda il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 15 all'incirca fino alle 16 Esatto E vorrei far dire a questo punto a Valentina su che sito possono ascoltarci i nostri amici streaming visto che non lo diciamo quasi mai No quasi mai, non me lo ricordo quasi mai su www.radiomania.it o sul nostro MySpace www.myspace.com Slash Radiomania Italia Tutto piccolino, tutto attaccato Tutto attaccato, esattamente Sempre la stessa cosa Ragazzi Lean Generation termina qui, come già detto salutiamo tutti quanti e lanciamo la linea, o meglio diamo la linea a Valentina appunto per il suo notiziario E so che oggi c'è un'edizione speciale, vero Valentina? Un'edizione specialissima E allora lanciamola, ciao! Ciao! Mania News, l'informazione Ben trovati all'edizione speciale del notiziario interamente dedicata alla trasmissione più gettonata del momento Stiamo parlando di Last Dance che andrà in diretta a TV stasera su Telemania Lo staff andrà a selezionare la fortunata o il fortunato ballerino di successo ad un noto pub della cittadina di Velletri, provincia di Roma Il Passo Cocktail Bar La canzone sulla quale lo staff si cimenterà nella selezione è Laira Rara, firmato di J. Andrew and Ivy Si stima un buon numero di partecipanti, in quanto il premio in questione è un'intera fiction televisiva E passiamo a... Un'edizione specialissima 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.